Puntando sulla divulgazione e la maggiore conoscenza della filiera corte dei suoi buonissimi prodotti si è svolta al Parco del Castello di Donna Fugata il primo appuntamento del progetto Il Contadino al Castello promosso da un ATS formata da imprese agricole e consorsi di tutela, c'era solo di Vittoria, di OCG e Ragusano DOP. Da un lato la promozione della filiera, dall'altro la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali incentivando il consumo consapevole e sostenibile dei prodotti del territorio secondo gli obiettivi del progetto finanziato dal Gal Terra Barocca teso a creare una rete tra operatori del settore primario per valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta di prodotti locali divulgazioni e approfondimenti su mandorle, carrube e miele, tutte produzioni biologiche così come su altri formaggi tradizionali di latte vaccino aromatizzati con capugliato e origano momento di grande interesse e il talk di approfondimento che ha visto la partecipazione di Lina Lauria del Consiglio Nazionale di Slow Food Italia, di Vincenzo Maidani, presidente regionale di Slow Food Marche di Barbara Conti, nota food blogger di Fantasia in Cucina su Giallo Zafferano Durante il dibattito sono stati discussi temi cruciali come la sostenibilità, l'importanza del consumo consapevole e le strategie per promuovere i prodotti della filiera corta